Questa domenica a Molini di Prelà si chiuderà la stagione del Mercatino delle Meraviglie con una simpatica festa natalizia. Dalle 10 del mattino ci saranno espositori di prodotti locali, dell'orto, specialità, vini, conserve e altro ancora, e poi artigianato con usato, collezionismo, arte, antichità e curiosità. Insomma, un'occasione anche per fare acquisti natalizi. Inoltre, a quasi un anno dalla scomparsa di Viscardo Berio, più noto come Vicky, collezionista e appassionato di 33 e 45 giri, in suo ricordo saranno presenti espositori di dischi in vinile. L'organizzazione ha infatti chiesto che le bancherelle espongano dischi di ogni genere. Sarà poi a disposizione il calendario 2016 con le foto più belle eseguite dagli appassionati di fotografia che hanno partecipato al concorso dal titolo Momenti magici del Mercatino delle Meraviglie. Come nelle altre edizioni, anche questa domenica ci sarà la zona dedicata ai più piccoli, con i gonfiabili e l'animatrice truccabimbi. Il programma prevede alle 10 l'inizio del mercatino, dalle 14.30 distribuzione di frittelle, cioccolate e vin brulee, con intrattenimento musicale degli Arassing Notes, un duo costituito da giovani promesse musicali che è già stato apprezzato dalla piazza nella scorsa edizione. Alle 15.30 un pensiero per Viscardo Berio e consegna ufficiale dei calendari ai fotografi, poi musica e festa ad oltranza.